amici di youtube bentornati sul mio canale e bentornati in questo un piccolo mondo nerd che ci siamo creati io dopo i primi tre video sulla trilogia mazzinca z grande mazzinca e euforo pogrendizer o coltre che dirsi voglia non mi sarei mai aspettato di ricevere da voi messaggi privati indicazioni richieste ringraziamenti perché veramente è stato piacevole interagire con questa comunità che credevo essere più risicata invece vedo che ci sono tante persone che hanno voglia di ascoltare di sentire quello che ho da dire come vi ho detto come vi dico sempre ho tante cose da raccontarvi e nei prossimi da qui a natale ho in previsione di far uscire altri quattro video dove vi racconterò getta robot jig e robot d'acciaio e mazzincaiser e mazzincaiser perché me l'avete chiesto in tanti ed è il momento insomma di raccontare anche questa storia c'è una domanda in particolare a cui vorrei rispondere tra le tante che sono arrivate quella non c'è una persona che mi ha chiesto perché non ci racconti quella che è la reale cronologia di tutti i robot di nagai almeno nel decennio degli anni settanta che poi sono arrivati in italia perché in italia sono arrivati un po spizziche bocconi sono arrivati un poco sfalsati rispetto alla cronologia originale e quindi adesso brevemente in un video molto molto breve in questo video molto breve io vi racconterò qual è la reale cronologia in parte ve l'ho già raccontata però i video passati erano lunghi in questo cercherò di essere molto molto sintetico nel 1972 sulla scorta di una serie di vicissitudini che vi ho già raccontato nagai si inventa il primo super robot un robot che viene pilotato dall'interno da un essere umano è il primo esperimento negli anime di questo tipo e diventa il capostipide della storia dei super robot nel mondo mazinga z che in questi giorni al cinema tra gli altri video vi farò anche una piccola video recensione del film che io ho visto in antepriva e che molti di voi hanno visto e mi hanno segnalato proprio sul canale siamo nel 1972 nel 1972 ci sono le le puntate le 92 puntate di mazinga z nel 1974 la vena artistica creativa del buon nagai arriviamo velocemente al 1974 che è un'annata straordinaria per la musica per la legge sul divorzio che arriva in l'italia per la nascita di thomas scalera e per l'arrivo di due grandissimi che sono prima arriva la prima versione del getta robot quello che noi conosciamo come space robot arrivato in italia con una come dire traduzione e adattamento discutibile ma arriva il grande mazinga il continuo che tutti aspettavano del mitico mazinga z nel 74 e quindi arrivano queste due serie che cambieranno a loro volta c'è la serie di getta roboti che sarà oggetto di un video a parte che vi racconterò e grande mazinga che vi ho già raccontato nel video di qualche settimana fa 74 poi arriva il 1975 se si può dire un anno ancora migliore più prolifico del maestro nagai perché arrivano in sequenza tre grandi classici che poi sono arrivati in italia e sono stati amatissimi dai giovani italiani che sono prima getta robot g cioè l'evoluzione del primo oggetto robot da le tre macchine vengono si evolvono muore musashi entra benkei kuruma ve lo racconterò nel dettaglio il robot più potente cambiano i nemici si combatte contro l'impero dei demoni mentre il primo oggetto robot era contro l'impero dei dinosauri nel 75 nagai sa in gran forma arriva un altro mito assoluto della storia dell'anime giapponese gig il robot d'acciaio kotetsun gig il titolo originale gig che probabilmente insieme a goldrake anzi sicuramente in italia è il più amato il più conosciuto in assoluto anche dalle nuove generazioni tanto è vero che il mio amico regista ciao gabriele gabriele mainetti ne ha fatto due anni fa un una importanza ha fatto un'importante citazione nel suo film interpretato dal quadro santamaria lo chiamavano gig robot è la storia di un'antica civiltà si riconduce un po ve l'ho detto anche nel video di mazinga si riconduce un po alla storia del grande mazinga cioè l'arrivo da sottoterra dei micenei in pratica in questo caso è l'antico impero yamatai che è l'impero diciamo che nella mitologia giapponese ha dato origine alla storia del giappone la regina emica ritorna sulla terra per riprendersi la sua il suo impero il suo regno e decide di spazzare via il giappone il professor shiba decide di sottrarre la fonte del potere maggiore di questo impero e di nasconderla nel posto per lui considerato più sicuro cioè il corpo del primo del suo primo genito hiroshi shiba da qui ci saranno le avventure di questo giovane che combatterà con tutte le sue forze contro l'impero yamatai nel 75 ottobre arriva gold rick un foro buongrendizer quindi questo questo 1975 è veramente un c'è stato una tripletta al trick come si dice in gioco calcistico di nagai che tira fuori che sforma questi tre questi tre grandissimi capolavori 75 quindi abbiamo detto goldrick che vi ho raccontato potete vedere nel video che è stato caricato due settimane fa circa ma non finisce qui perché qui c'è una piccola chicca che dovreste sapere teoricamente il mito dei super robot nagai anni si interrompe nel 75 per poi riprendere all'inizio del 2000 con l'arrivo di mazzin kaiser parliamo di di cartoni animati di anime perché dal punto di vista dei manga e dei fumetti nagai spornerà mazzin saga mazinger zedo shim mazinger una tutta una serie di storie collegate alla storia di mazinga delle quali si risente molto nel film che in questo momento è al cinema però fino al 2000 finisce tutto in realtà non è proprio così perché c'è un c'è una produzione che contesa tra la toy e go ragai una produzione che la leggenda vuole che sia venuta fuori da un'idea di go nagai e poi la toy abbia estromesso il maestro nagai abbia prodotto in proprio questa serie è la serie di guy king il robot guerriero che è la storia di questo diciamo evoluta di questo gruppo di combattenti che viaggia nel mondo su una nave spaziale a forma di drago la cui testa forma il busto del robot potente robot che è appunto il guy king da kyu mario guy king il titolo originale giapponese questa diciamo è uno spaccato degli anni 70 allora bene amici con questa questo video ha due funzioni fondamentali quella di raccontarvi la cronologia che tutti mi avete chiesto e anche di presentarvi i prossimi video che andremo a fare e soprattutto invitarvi se avete curiosità se volete sapere cose se avete bisogno di in qualche modo delle vostre perplessità su queste storie voi ve le chiedete io se ne sono a conoscenza vi rispondo subito se non lo sono farò una ricerca e ve la riproporrò ho visto che molti di voi nei commenti hanno delle loro interpretazioni tipo che goldrake era un'arma di vega piuttosto che non l'arma suprema del pianeta fleet allora volevo eliminare questa anche perché è stata detta anche proprio dagli autori goldrake era un'arma di fleet se fosse stata un'arma di vega vega non inseguiva goldrake sulla terra per riprenderselo ma ne costruiva un altro se erano loro i progettisti non essendo non essendo l'oro anche perché su vega il metallo green che questo metallo quasi indistruttibile che era il metallo con cui era costruito goldrake o grandizer da cui il nome green dizer che coltri con genere niente vabbè quindi considerando questo fatto qua vega poteva ricostruirsi invece voleva con tutte le sue forze il goldrake perché sapeva di non poterlo ricostruire e c'è una puntata dove con actarus ferito koji kabuto cerca di prendere goldrake dice vabbè lo piloto io visto che ho pilotato il mazinga z posso riuscire a pilotare il goldrake a combattere e rischia di rimanere fulminato in una sorta di ventifurto che spara fulmini dal dall'alto della navicella verso chi si avvicina e tenta di entrare dentro il disco quindi questo significa ovviamente che solo il principe di fleet cioè daisuke o duke fleet come vogliamo chiamarlo poteva avere accesso ai controlli di questa macchina e con questo è tutto io vi lascio vi ringrazio sempre per la grande per la grande attenzione che mi concedete i video hanno fatto migliaia di visualizzazioni continuate a condividerli datemi dei consigli lasciate un mi piace se se vi è piaciuto quello che vi ho che vi ho raccontato alla fine di questo video troverete un riassunto dove potrete cliccare sui video precedenti qualora ve li foste persi io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana dove usciremo con questo video su jig il robot d'acciaio stay tuned ciao ciao